Un giorno qualcuno ha detto che nel mondo ci sono due tipi di persone, le ancore e i motori. Dovresti sbarazzarti delle ancore e stare con i motori, perché i motori stanno andando da qualche parte e si stanno divertendo di più. Mentre le ancore ti trascineranno sempre in giù. Se sei un consulente del credito, del noleggio a lungo termine, oppure nel settore assicurativo, dammi due minuti del tuo tempo e ti dirò il perché. Mi chiamo Vincenzo Barba e sono il presidente della Holding H2B. Durante la mia carriera professionale e imprenditoriale ci sono state tre domande che mi hanno accompagnato durante il mio percorso. In che modo potevamo creare il miglior servizio per chi ci avrebbe scelto? In che modo avremmo potuto creare valore aggiunto e opportunità? In che modo potevamo fare la differenza per noi e per il nostro mercato? Tanti sono stati partner bancari, finanziari, nel settore dell'automotive e in quello assicurativo, che ci hanno dato la loro fiducia con accordi quadri nazionali dal 2011 ad oggi. Molti dicono di fare la differenza, ma poi in quanti sono in grado di farla? Vuoi sapere il perché? Noi di H2B abbiamo strutturato le nostre società con un'organizzazione in grado di garantirti qualità, efficienza e una filosofia condivisa in ogni settore. Chi entra in H2B non entra solo all'interno di un gruppo, ma in una vera e propria comunità allargata, dove può trovare la propria realizzazione, sia in termini professionali che personali. La coesione sociale è molto di più di un valore e noi di H2B l'abbiamo saputo esprimere negli anni, rafforzando anno dopo anno il nostro sistema di creare valore per le persone coinvolte. Il nostro obiettivo è far sentire i nostri professionisti parte di una comunità solida, di un'azienda che nel modo più concreto possa tutelare interessi, passioni, sogni e bisogni. Dunque che tu sia un professionista nel settore del credito al consumo, nei mutui, nei finanziamenti aziendali, nel credito finalizzato oppure nel settore del noleggio a lungo termine o nel settore assicurativo, in H2B troverai un ecosistema di società che ti permetterà di avere un vantaggio competitivo e autorevole. Chi sceglie di entrare in H2B si sente parte di una grande famiglia che condivide idee, valori e risultati. E allora perché porsi dei limiti e rimanere con le ancore? Sceglie di stare con i motori, sceglie di entrare in H2B. Vi aspettiamo!